Io personalmente no, nel senso che ho detto, mi sono arrabbiato perché dico, caspita, si è bevata, però è normale insomma, ci sta quando uno fa un lavoro, però ho sempre voluto pensare che è stato un caso e non altro. Va bene, grazie. Io avrei una domanda che nasce sulla scorta della domanda della difesa Catracchia. Le chiedo questo, prima di questo appostamento, le è stato reso noto che la lancia delta di colore marrone targata Roma X77871 era stata vista nel tratto Ovindoli, è un paesino che sta un po' lontano da Roma, cioè qualcuno le ha detto che questo autoveicolo era stato individuato in questo tratto di strada e che all'interno di questo autoveicolo era sospetta già da quell'atto di indagine la presenza di Giorgio Vale e Francesca Amando. La premessa a questo intervento è stata notiziarvi di questa individuazione della lancia delta nel tratto di strada che ho menzionato. Non me lo ricordo, non lo ricordo. Non lo ricordo, va bene, grazie. Va bene, può andare, grazie. Grazie a lei. Grazie, grazie a voi. Chiedo scusa per le due volte precedenti che non sono stato bene. Presidente, ricordiamo alla Corte che abbiamo depositato la sentenza NAR integralmente e nel paragrafo che riguarda questa vicenda da cui risulta che quell'autoveicolo era in uso a Giorgio Vale e Francesca Amando, l'abbiamo depositata sia integralmente sia per estratto. La sentenza NAR intende i diputati? Non sono gli imputati. La sentenza NAR, l'abbiamo depositata in una delle scorse obiettive. In modo da poterla andare a cercare. Addis più altri, mi dice il collega. La sentenza Addis più altri. L'abbiamo depositata in formato elettronico ma anche in formato cartaceo nel paragrafo in cui risulta che erano Giorgio Vale e Francesca Amando. La sentenza dice che avevano affittato un appartamento da un certo catrecchia, questo dice la sentenza con un errore di trascrizione e dice anche che quell'autovettura era in uso ai due. Quindi è accertato, abbiamo tutto... Allora, diamo avviso che la testa non intende essere ripresa e quindi bisogna interrompere la ripresa su questo punto, a questo punto. Allora, è presente la richiesta della difesa che sia sentita ai sensi... Della difesa del pubblico ministero. 197 bis. 197 bis, va bene, concordiamo. Lei non ha un difensore di fiducia e quindi le viene assegnato al difensore d'ufficio l'avvocato elettore Grenci, con il quale ha avuto modo di parlare. Detto questo, ci deve dire le sue generalità e leggere la dichiarazione del testimone. Prego. Come si chiama lei? Faranda Adriana. Nata. Torturici, il 7-8-1950. Bene, dichiarazione del testimone, quel foglio che è a sinistra. Consapevole della responsabilità. Le golevo giusto gli avvisi preliminari, lei ha arresto dichiarazioni sui fatti di cui ci stiamo occupando al pubblico ministero, quindi con gli avvisi di rito e faccio a suo tempo e quindi lei in questo momento è testimone assistito all'obbligo di deporre ma salvo che per i fatti per i quali lei ha riportato condanna su questo. Salvo che per i fatti? Allora, lega la dichiarazione per chi è scendere. E' consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Buongiorno signor Faranda, vorrei fare alcune domande, qui siamo in un contesto diverso dal contesto istruttorio in cui non c'era la Corte d'Assise, alcuni fatti noi li davamo per scontati. Adesso forse è opportuno ricapitolare in brevissima sintesi alcune vicende, quindi le farò delle domande che sembrano banali per me, però non solo per chi deve capire e ascoltare. Lei ha pattenuto alle Brigate Rosse? Lei è stata condannata in relazione ad alcuni episodi di terrorismo fra cui l'episodio relativo al sequestro all'omicidio di Altomoro. Può spiegare alla Corte che in breve sintesi che percorso lei ha fatto nelle Brigate Rosse, soprattutto nel periodo immediatamente precedente, durante e successivo al sequestro all'amore? Sì, allora io sono entrata nell'organizzazione delle Brigate Rosse verso la fine del 76, nell'autunno inoltre del 76. Ho partecipato ad alcuni esperimenti che sono stati di… oddio io vorrei anche però riferirmi alle mie deposizioni precedenti sono stati Traversi Rossi, professore universitario di cui in questo momento mi sfugge il nome, dopodiché ci occupammo della preparazione del sequestro Moro. Una preparazione che fu estremamente laboriosa, prima fu ipotizzato un altro tipo di azione in Piazza dei Giochi Delfici dove avevamo verificato che il Presidente Moro si recava a messa quasi quotidianamente dalle nostre… dalle nostre inchieste, dai nostri appostamenti, lui faceva quasi sempre la medesima strada e si recava alla Chiesa di Piazza dei Giochi Delfici e noi avevamo ipotizzato di poter effettuare il rapimento in quel luogo e avevamo anche elaborato un piano d'azione perché avremmo potuto… prelevarlo in Chiesa e uscire da una via laterale, dalla Sacrestia senza quindi la necessità di uccidere gli uomini della sua scorta. Sì, adesso non abbiamo bisogno di costruire… Questo ovviamente venne meno per problemi proprio logistici di praticabilità della piazza in caso di scontro a fuoco e risalendo la strada che lui faceva per arrivare a Piazza dei Giochi Delfici individuammo l'altro luogo del rapimento che fu via Fani. Senta, lei aveva un compagno di nome Valerio Molucci, era compagno nella vita oltre che nelle Brigate Rosse? Senta, lei e Valerio Molucci che ruolo avevate nella si può dire gerarchia delle Brigate Rosse? A che livelli di coinvolgimento? Senta, ambedue eravamo a quell'epoca all'interno della direzione di Colonna. L'organizzazione delle Brigate Rosse era divisa praticamente in due filoni principali che erano il fronte logistico e il fronte della controrivoluzione. Io appartenevo al fronte della controrivoluzione, Valerio invece e Morucci si occupava del fronte logistico. L'organizzazione delle Brigate Rosse aveva la direzione di Colonna e una serie di Brigate posizionate all'interno del territorio, le quali a loro volta avevano rapporti con dei simpatizzanti che erano di sostegno logistico, volantinaggi, operazioni molto leggere. In questo contesto voi avete occupato il covo di Biagradoli 96? Sì, sì. Puoi spiegare alla corte chi ha abitato in questo covo, oltre lei, se qualcuno, che cosa era quel covo e quando? Quindi partiamo da quando l'avete... Noi l'abbiamo abitato a cavallo tra il 76 e il 77 mi pare, adesso non ricordo bene le date, credo che ai tempi avevo la memoria un po' più nitida e ne uscimmo prima dell'estate. Il quale anno? Del 77. Senta, a sua memoria le dico, in quell'immobile abbiamo, ogni tanto non sono contestazioni ma cerchiamo di aiutare la sua memoria, le leggo quello che lei ha dichiarato nell'edizione del 18 ottobre 2019. In quell'immobile abbiamo abitato io e Valerio Morucci per un certo periodo di tempo, ora non ricordo con precisione in che anno, comunque non molto tempo prima del sequestro Moro, qualche mese prima. Sì. Questo ci ha detto? Sì. Quindi siamo 77-78? No, siamo 77 fino all'estate del 77, non oltre, non oltre. Prima di noi, dunque questa casa era stata affittata prima del mio ingresso all'interno delle Brigade Rosse, risale addirittura se non mi sbaglio al 75 l'affitto di questa casa ed era stata affittata da Moretti sotto con un falso documento Borghi ed era una casa considerata sicura proprio perché era stata presa in epoca precedente al periodo di allarme, quindi di possibili azioni terroristiche, quindi di controlli più stringenti come quelli che poi ci furono con le leggi che obbligavano gli affittuari a denunciare… La casa era stata presa da Moretti, poi ci avete abitato voi, lei e Valeria? No, no, non ci abbiamo abitato immediatamente noi perché io sono entrata nel 76, quindi era stata abitata se non ricordo male probabilmente dalla Brioschi, ma io non vorrei adesso dire cose inesatte, però ci sono tante deposizioni… Ma cerchiamo di avere la tua deposizione signora Faranda, quindi mi ascolti, voi ci avete abitato per un certo periodo, poi a un certo punto lasciate l'appartamento a chi? La lasciamo credo proprio a Moretti e alla Balzerani, se non mi ricordo male… Adesso è riuscita a far mente locale circa quando nel periodo in cui avete… La scelta proprio attorno alla prima dell'estate del 77 ritengo che sia stato perché la casa che era abitata da Moretti era altamente a rischio perché era stata rubata una macchina con dei documenti dentro, quindi si decise di abbandonarla e di sgomberarla e lui non sapeva dove andare… Quindi ritornò in via Gravoli, mentre noi andammo, se non mi ricordo male, spero di non sbagliarmi, in via Chiavrera… Va bene, ci torniamo dopo… Sì… Voi lasciate la casa a Moretti e alla Barbara Balzerani… Sì… Può riferire alla Corte chi erano queste due persone? Dunque… In grandissime linee che livello aveva di responsabilità… Certo, Moretti era un componente dell'esecutivo delle Brigate Rosse e poi ovviamente partecipava alle riunioni della direzione di Colonna perché era stato uno dei… diciamo di coloro che l'avevano comunque messa su… Mi correga se sbaglio, era un dirigente delle Brigate Rosse… Era un dirigente… Un alto livello delle Brigate Rosse… Un alto livello perché l'esecutivo delle Brigate Rosse era diciamo l'organo dal punto di vista decisionale l'organo principale delle Brigate Rosse… C'era a livello di Moretti se c'era qualcuno? C'erano a quei tempi Moretti, Bonisoli, Azzolini e Michaletto… non vorrei sbagliarmi… Comunque stiamo parlando dei massimi livelli delle Brigate Rosse… Sì… dal livello esecutivo decisionale sì… Al livello esecutivo decisionale… E la signora Barbara Balzerani era la compagna di Moretti? Era a quei tempi sì la compagna di Moretti… Aveva un ruolo anche lei importante… Era componente della direzione di Colonna… Della direzione di Colonna… Quindi subentrano loro nell'appartamento di Via Gradoli e lei ha bisogno di, con Morucci, di andare altrove dall'altra parte… Sì… È così? In Via Gradoli avevate anche un garage? Guardi questo proprio non lo ricordo… Io non ricordo di avere mai usato un garage… È possibile che ci fosse… Ma io non ne ho memoria… E sì… Anche l'altra volta non lo ricordava… Poi io… Non lo ricordavo… Mi può rinfrescare… Mi può aiutare… Perché io non… Adesso non mi ricordo più… C'era un garage di cui avevate la disponibilità in Via Gradoli 77… Ok… Dopo tanti anni non ho più memoria di questo particolare… Questo verbale se ne dà… Come… Sì… Nel verbale… Nel verbale nostro se ne dà… Non ricordo anche neppure perché ci fosse… Quale utilità potesse avere per noi… Senta… Le faccio una domanda che l'abbiamo fatta anche l'altra volta… Dalla… Dalla nostra inchiesta… Emerge che in Via Grato di 96… Che era una strada molto particolare… C'erano numerosi appartamenti… Riconducibili direttamente o indirettamente… Indirettamente a persone e a società… Controllate dai servizi… In particolare dal SISDE… È una domanda retorica… Sapevate… Avevate intuito… No… No… Sicuramente no… E poi vorrei capire… Perché poi la riforma dei servizi… Se non mi sbaglio… È stata posteriore all'affitto degli appartamenti… Dell'appartamento… Cioè… Allora… Il SISDE nasce… Il SISDE nasce… Con la riforma del 77… Credi… Però c'era di fatto già… Aveva varie denominazioni… Non è che nasce il suo… Certo… Beh… E c'era… Infatti c'è… Vedremo una continuità di persone… Che compaiono prima… E compaiono dopo… Comunque noi… Non eravamo a conoscenza… Nel 78… Erano anche operazioni… Sì sì… Certo… Però nel momento in cui è stata affittata la casa… E poi Moretti veniva anche da fuori… Sempre… In questo processo… Abbiamo parlato molto… Riguardo al terrorismo nero… Del rapporto… Fra… Spesso… Molto stretto… Intimo… Fra esponenti delle versioni nere… E i servizi… Per le Brigate Rosse… Per quello che lei è conoscenza… Si sono verificati i casi analoghi… Cioè… Da noi è dimostrato che… Molti terroristi di versione nera… Lavoravano per i servizi… E non solo italiani… Per quello che mi risulta… E per quello che ho potuto constatare… Durante tutta la mia militanza… All'interno del Brigate Rosse… E anche dopo non mi risulta assolutamente… Che ci fossero contatti di questo genere… Infiltrazione… Commissione… Di questo genere… Non mi sono mai venuta a conoscenza… E neanche… Ho avuto il sospetto… Che ci fossero… Senta… Va bene… Voi avete… Lei e Volucci… Avete… Abitato anche un covo… In Piale Giulio Cesare 47… Non era un covo… Era un rifugio… Un rifugio… Un rifugio… Perché dopo la nostra uscita… Un po' rocambolesca… Dall'organizzazione delle BR… Non sapevamo bene dove andare… Quindi avevamo delle case… Che ci… Che ci procuravano… Dei vecchi contatti… Che erano sempre rifugi temporane… In attesa di trovare una soluzione… Un po' più stabile… Quella di… Di Via Le Giulio Cesare… Si rivelò un po' più lunga… Delle… Delle altre… Che non state proprio… Giorni… Perché… Riuscimmo ad affittare… Una stanza… All'interno… Della… Senta… Prima… Di parlare… Di… Del vostro… Materiale ingresso… In Via Le Giulio Cesare… Eh… Parliamo… Perché… Lei ha usato… La parola… Rifugio… Che usò… Anche… Nel dialogo con noi… Nella… Udienza istruttoria… Eh… Lei ha parlato… Di una frattura… Con le Brigate Rosse… Dopo l'omicidio Moro… Può dire… Che cosa è successo… Della Corte… Secondo la sua esperienza… La sua narrazione… Ma… Eh… Praticamente… La… Diciamo… Le… Le… Contraddizioni… Le… Le… Posizioni… Politiche nostre… Mie… Di Valerio Morucci… E di qualche altro componente… Della colonna romana… Divennero… In particolare… Quelle mie… Di Morucci… Che avevamo discussioni continue… All'interno… Della… Direzione di colonna… Ma… Divennero incompatibili… Con… Le scelte… Dell'organizzazione… Noi eravamo… Contrari… All'uccisione… Del presidente Moro… Eh… Ci battemmo… Fino alla fine… Eh… Però… Insomma… La nostra… La nostra… La nostra posizione… Si rivelò perdente… Dopodiché… Eh… Faticosamente… Riuscimmo… A resistere… All'interno… Dell'organizzazione… Io ancora… Per un po' di tempo… Dico… Faticosamente… Riuscimmo a resistere… Perché… Eh… Le scelte… Che avevamo fatte… Erano estremamente… Pesanti… Io avevo abbandonato tutto… Compresa mia figlia… Per fare questa scelta… Eh… Avevamo… A quel punto… Un mandato… Un mandato di gattura… Quindi… Eh… La scelta… Aveva comportato… Tutta una serie di legami… Non solo… La rottura… Con i legami… Precedenti… Ma… La costruzione… Di una serie… Di legami… All'interno… Dell'organizzazione… Non era facile uscirne… Continuammo… La nostra… Battaglia politica… In particolare… Contro… C'era a quei tempi… Come si chiamava… La campagna di ambientamento… Non mi ricordo più… Comunque… C'erano… Delle discussioni… Estremamente… Eh… Problematiche… All'interno… Della direzione… Di colonna… Finché… Ci chiesero… Distilare… Un documento… In cui… Esplicitavamo… Eh… Tutti… I… Motivi… Tutti gli argomenti… Della nostra dissidenza… Eh… L'organizzazione… Avrebbe valutato… Se noi… Eh… Eravamo… Compatibili… Ancora… Con la linea organizzativa… Delle Brigate Rosse… O meno… Quando si verifica… Questa situazione… Questa situazione… Si verifica… Diciamo… Comincia a verificarsi… Nell'autunno… Del… Settantotto… Eh… Io… Premevo… Molto… Per risolvere… Per risolvere… Questa situazione… Perché… Veramente… Non… Era difficile… Conciliare… Delle idee… Così… Differenti… Eh… Quindi… Quando… Noi… Eh… All'inizio… Io… Tentai… Di sottrarmi… Alle responsabilità… Per cui… Feci… Una lettera… Di dimissioni… Dalla direzione… Di colonna… Che non venne accettata… Perché… Mi venne… Risposto… Che… Eh… Non ci si poteva dimettere… Dai ruoli… Di dirigenza… Ma… Si poteva… Essere… Dimessi… Eh… Quindi… Eh… Decidemmo… Di stilare… Questo documento… Però… Eh… Davanti… C'era prospettiva… Di recarci… In un luogo… In campagna… In… Mi pare… Che fosse… Vicino a Orte… Adesso… Non ricordo più… Esattamente… Eh… Per scriverlo… Sotto… Sorveglianza… Dell'organizzazione… Senza… Ovviamente… Nessun rischio… Però… Di pena capitale… Nel senso che… Le Brigate Rosse… Permettevano… Tranquillamente… Alle persone… Di fuoriuscire… Però… Noi scegliamo… Di fare un atto di ribellione… Non accettammo… Queste disposizioni… E… Prendemmo… Ciò che c'era in casa… Perché… Tra l'altro… Scappate… Cercando rifugio… Praticamente… E… Cercando questo rifugio… Siete arrivati… Siamo arrivati… In questa casa… Di via… Di via… Di via… Lei… Ha parlato di autunno 78… Prima… Questo colloco… Sì… Diciamo che poi… Siamo… Siamo usciti… Attorno… Anche lì… A cavallo… Tra il 78… Il 79… Senta… E… Come trovate questa casa… Di via… Giulio Cesare… Questa casa… Ci viene… Il contatto… Ci viene dato… Ci viene… Presentato… Da… Non ricordo se… Congiuntamente… Da… Pace e Piperno… O comunque… Attraverso… Il contatto… Che avevamo… Con loro… Sì… L'altra volta… Lei ha detto… Franco Pace… Franco Piperno… Sono queste persone qua… Sì… Sì… Ehm… 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 Noi fumo presentati… Come dei… Dei collaboratori… Del rivista Metropoli… Eh… Eravate amici… Di Dan Franco Pace… E Franco Piperno… Beh… Noi avevamo militato… Il potere operaio… Tanti anni prima… Quindi la conoscenza era… Di molto tempo prima… E in po… E in più… In potere operaio… E entrambi erano di potere operaio… E in più… Durante il sequestro Moro… Noi avevamo… Avuto dei contatti con Pace… Ehm… Per cercare di… Ehm… Vi eravate frequentati con Franco Pace… La Franco Pace… Franco Piperno… In che senso… Frequentati con… Vi conoscevate bene… Sì… Sì… Anche durante la militanza di potere operai… Senta… Avevano delle compagne… La Franco Pace… Franco Pace… Questo… Non gliel'ho chiesto ai tempi… Sinceramente… Perché… Lei ha conosciuto… Ci hanno da tutti i problemi… Non gliel'ha conosciuta… Che è la compagna di Franco Piperno… Birgit Kraft… No… No… Non l'ha conosciuta… Senta… Ehm… Quindi voi… Siamo… Nell'autunno del 78… Poco più… E andate in Viale Giulio Cesare… No… Nei primi mesi del 79… Andate in questa casa… Sì… Dopo avere un po' peregrinato in giro… Chi è la padrone di casa? Giuliana Conforto… Giuliana Conforto… La quale è all'oscuro della nostra identità… Per quello che io ho capito… Senta… Cadete dalla padella nella braccia… Perché Giuliana Conforto… È la figlia di Giorgio Conforto… Un agente dell'Unione Sovietica… Ma di fatto fa il doppio gioco anche per i servizi occidentali… Americano e italiano… Ed è molto citato in termini elogiativi… Da Federico Umberto D'Amato… Non sapeva che… No… Proprio non lo immaginavo… Però ci è arrivato… Ha detto tramite Franco e Piperno… Sì… Conoscevano questa figura… Perché la conoscevano… Perché era una… È una ricercatrice di fisica mi pare… Per cui la conosceva Piperno… E dopo un po' venite arrestati… E dopo un po' venite arrestati… E dopo un po' venite arrestati… Giuliana Conforto… Nomina come difensore… L'avvocato Alfonso Cascone… Che ci risulta essere stato… Avvocato difensore… Di vari brigatisti rossi… Eh… Non rammento il nome di questa persona… Cascone viene nominato… Da Giuliana Conforto… Da Giuliana Conforto… Da Giuliana Conforto… Che viene accusata di favoreggiamento… Viene nominato l'avvocato Cascone… Che era anche avvocato di vari brigatisti rossi… Lei… Non ha ricordo di questa persona? No… No… Anche perché se non mi sbaglio… Il processo… Alla Conforto… Fu separato da quello nostro… Certo… Rispondeva di favoreggiamento… Qui… È fatto anche un noto intervento con Sieger… Su questa storia… Eh… L'avvocato Cascone… Che difendeva vari brigatisti… Difendeva la Conforto… Abbiamo dimostrato alla Corte… Era un confidente al libro paga… Del Ministero degli Intervi… Oh madonna… No… Scusate… La reazione… Federico Umberto D'Amatto… E quindi voi passate da Via Gradoli… E passate a casa dell'agente doppio… Certo… Che era la Casa del Conforto… La Casa di Giuliana Conforto… Certo… Vabbè… Che sta a Giuliana Conforto… Cioè… Non voglio capire… La casa dove loro vengono… Che sta da Giuliana Conforto… A Giuliana Conforto… Il padre è questa persona qua… Che è Giorgia Conforto… Un agente doppio… L'Avvocato di Giuliana Conforto è un agente del Beminave… l'Avvocato Alfonso Cascone con tanto di stipendio abbiamo dimostrato ed era avvocato anche di brigatisti. Abbiamo dimostrato i misteri della vita, saranno coincidenze però ha capito? Non lo so ma ne dicono di tutti i colori anche di Tommaso Mancini che era il mio avvocato, cioè voglio dire eravamo veramente veduti a pensare di poter cambiare qualcosa in un'Italia in cui eravamo circondati da sott'assedio. Ne abbiamo nominato Federico Umberto D'Amato che era quello che manipolava l'Avvocato Cascone difensore delle Brigate Rosse. Abbiamo letto qualche articolo di stampa su Federico Umberto D'Amato riguardo al Deboreale e al suo pentimento, lei non sa chi fosse questo qua? Non ho memoria di questo nome proprio. Va bene. Senta un'altra cosa, lei nel periodo di crisi, diciamo con le Brigate Rosse, stiamo parlando dell'autunno 78, però si occupa di trovare rifugio a Prospero Gallinari. Non è che mi occupo di trovare rifugio, tutti quanti ci eravamo attivati per cercare di capire dove potesse andare. Se posso dire innanzitutto chi è Prospero Gallinari? Prospero Gallinari era anche lui un componente della direzione di colonna, con la ristrutturazione dell'autunno del 78 era anche all'interno del fronte della controrivoluzione a livello nazionale, con Barbara Balzarani, mentre io ovviamente ero stata tagliata fuori proprio per i miei problemi politici. non mi ricordo più, perché lui prima era vissuto all'interno di via Montalcini nel periodo del sequestro, lo smantellamento della casa di via Montalcini, non ricordo più lui dove era andato e perché aveva bisogno di avere una casa. Siccome non c'è, a quei tempi si dovevano cercare i prestanome, io cerco proprio di di ricordare il più possibile. I prestanome potevano affittare un appartamento oppure ospitare delle persone Scusate, faccio un altro passo dietro, Prospero Gallinari chi era? Gallinari era un componente delle BR di vecchissima data, uno dei primi fondatori, era stato già arrestato, era evaso dal carcere, era arrivato alla direzione di colonna di Roma. Quindi anche lui aveva un incarico direttivo? Sì, anche lui faceva parte, come ho detto, della direzione di colonna e del fronte nazionale della Contro. Non ricordo più adesso le dinamiche esatte, però tutti noi eravamo attivati per cercare di trovare dei prestanome in continuazione. Dopo il sequestro Moro, nell'autunno sempre, erano confluiti nelle BR, era confluito un gruppo di persone, tra cui due irregolari, che erano molto ai margini, che però potevano avere un ruolo periferico di prestanome, nel senso potevano ospitare delle persone. Quindi, tra tutti i contatti, alla fine, in direzione di colonna, si decise di mettere in contatto Gallinari con queste due persone e venne ospitato per un periodo, se lei si riferisce... Sì, stiamo parlando dell'autunno 78, era un periodo in cui lei era in crisi. Il conflitto con i dirigenti di colonna era abbastanza forte, anche se io poi partecipai anche a un altro attentato, che fu quello Ladigos alla scorta di Galloni. Quindi, insomma, era molto travagliato quel periodo. Gallinari venne ospitato per un breve periodo da queste due persone. Io mi ricordo soltanto che queste due persone a un certo punto dissero che non ce la sentivano, perché questa era... cioè era troppo... era troppo impegnata... Lei a noi hai fatto il nome di Norma Andriani e Carlo Broggi, che si occuparono di... Che erano di questo gruppo che era entrato dopo il sequestro Moro, in epoca posteriore. Che si occupano di trovare il rifugio a Gallinari. Sì. E disse, decidemmo di poterci fidare di loro. Nel nuovo gruppo della Andriani e di Broggi facevano parte due compagni di cui non conosco il nome e non ricordo neanche il nome di Battaglia, i quali furono ritenuti idoni a svolgere la funzione di prestanome. Esatto. Allora ci chiarisca bene questa cosa. Perché? Lei si trova in crisi con le Brigate Rosse. Deve trovare casa a Gallinari. Trova due soggetti nuovi, che sono Norma Andriani e Carlo Broggi. No, non li trovo io. Questi erano entrati all'interno delle BR tramite... Si fida di loro. Si fida di loro. Se vengono accettati dagli altri componenti della Direzione di Colonna dopo tutti gli esami del caso che si facevano a quei tempi, è ovvio che il rapporto è di fiducia. Non può essere altrimenti. Che trovano altre due persone che fanno da prestanome per Gallinari. E lei dice che i nomi non li sa. Non me li ricorda assolutamente. Non li ricorda o non li sapeva? Ma credo di non averli mai saputi i nomi veri. Se ne faccio il nome di Salvetti? Salvetti? No. Un certo milioni, Fabio? No. Non avevo bisogno di conoscere i nomi veri. Ma se si deve fidare di queste persone? No, perché tra poco... In base a quale criterio si fida? Se non sa neanche come si chiama. In base al criterio che ci sono dei compagni che garantiscono per loro. Quindi dei compagni che garantiscono li devono conoscere? E certo. Cioè, quindi ci deve essere un'istruttoria su questo punto? Un'istruttoria è un termine... Un'istruttoria c'era una valutazione... C'era sicuramente una valutazione... C'era sicuramente una valutazione... se ne vede un'istruttoria su questa valutazione... Asi venne contattato Seghetti da questo gruppo? Veniva presentato come una compagna che ha questo tipo di storia politica? Vive in questo quartiere? Non ha mai avuto problemi con la giustizia? Oppure sì? E' stato un capo popolo? Oppure no? Ha avuto esperienze armate? Oppure no? C'era una presentazione di questa persona da un punto di vista politico militare, il nome di battesimo e il cognome non interessava a nessuno, ma non solo non interessava, era un elemento invece perturbativo perché poteva esporre queste persone all'arresto nel caso di… Ho capito, va bene, ci sono risultanze istruttorie di senso di segno contrario, ma ne parleremo con la fine. Io ho capito, io però la finevo così. Di segno contrario in che senso? La testimonianza di un ufficiale dei Carabinieri che ha ricostruito l'episodio in maniera parzialmente diversa. Un ufficiale dei Carabinieri? Ma non la riguarda adesso, noi stiamo parlando di un ufficiale dei Carabinieri che è un dirigente dell'Officiale dei Carabinieri, quindi cosa ha ricostruito, una cosa che… Non si preoccupi, mi risponde le mie domande e mi guardi d'accordo. Prospero Gallinieri, dirigente delle Brigate Rosse, finisce in via Massimi 91, questo l'avrà letto anche se lei non lo sa. Questo l'ho letto su internet. C'è stata una commissione, avrà sentito parlare la commissione Moro che ha fatto una relazione e parla proprio di via Massimi 91. E ci va a finire però in che epoca? Ci va a finire circa nell'autunno del 78 su sua iniziativa attraverso questi prestemoni. In via Massimi 91 si scopre che ci sono guarda caso anche qui… Guarda caso! Qui c'è una sequenza di coincidenze incredibili. Dopo via Gradoli, via di Giulio Cesare, via Massimi 91 c'è innanzitutto il Cardinal Bagnozzi, Egidio Bagnozzi, che è una persona di importante livello, che ha avuto contatti con i servizi, ha avuto contatti con il nostro protagonista che si chiama Giorgio Di Nunzio, aveva un carico di delegato apostolico negli Stati Uniti. Ma è una figura secondaria perché in via Massimi 91 ci abita anche Birgit Kratz, che era la compagna di Franco Piverno. Quindi è persona che dovrebbe essere… Quindi questo appartamento di via Massimi 91, che viene procurato a Gallinari dai due innominati, attraverso l'intervento della signora Parana, ci abita il Cardinal Gidio Bagnozzi, che abbiamo detto, ci abita lì nel palazzo. Sì, abita nel palazzo, abita Birgit Kratz, che è la compagna di Franco Piverno, quello che ha trovato. E ha la sede soprattutto la Tumpain Company, detta anche Tunko, è una società dell'intelligenza statunitense, è un organismo dei servizi di intelligence, ne ha parlato. In questo in buon periodo. Per un periodo quindi vengono a coesistere, lo stesso immobile, il Cardinale, la France e la società. La compagna di Piverno che ha procurato la dimora di Viale Giulio Cesare alla signora Faranda, c'è questa società dell'intelligenza statunitense e c'è uno dei principali latitanti italiani, Prospero Gallinari, che finisce lì attraverso il suo intervento. È un'ennesima coincidenza questa qua. E ma temo proprio di sì. Sono tutte coincidenze. Sì, senta, noi non eravamo all'interno di, non so come definirle, di strutture di controllo statali, per cui non potevamo sapere tutte le persone che vivevano. Ma ha visto un po' in un posto, io? Cioè, tutte le volte che si verifica... Cioè, non eravamo l'anagrafe del quartiere quando si muoveva. Va bene, lei considera una coincidenza. Ma io sì, per forza la considero una coincidenza, perché non posso considerarla diversamente. No, ma intanto sono dati di fatto, poi si valutano se sia una coincidenza. Ah certo, non sta a me, però... Senza, l'ultima domanda per ora. Lei, il 19 marzo del 2018, appose il like sotto questa fotografia, se la possiamo far vedere... 1918? 18, 19 marzo del 2018. 2018, chiedo scusa. La facciamo vedere anche alla corte. Giorgio Dinunzio, che era il padre di un mio contatto di Facebook, che io non ho mai conosciuto. Allora, la Facebook, lei ha messo il like sotto questa fotografia di questo signore. Il signore si chiama Giorgio Dinunzio. Allora, ha messo questo like? Ci abbiamo anche la scheda qui, sì, sì. Per cortesia, per questo mio contatto. No, no, sarà un'altra coincidenza. Le chiedo, come mai lei mette un like sotto la figura di questo signore? Sa chi è questo signore? No, sapevo solo che era il padre di questo mio amico. Allora, ma che tipo di amicizia era? Perché lei ha detto una cosa... Soltanto, soltanto virtuale. Virtuale, cioè non l'ha mai conosciuto Roberto Dinunzio. No, mai di persona. E Roberto Dinunzio posta, si dice, la fotografia di suo padre Giorgio, è un nome molto risuonante in questa istruttoria, lei ci mette il like. Che vuol dire amicizia virtuale? Vuol dire che l'avevo conosciuto attraverso un gruppo di amici di Facebook con cui avevamo una, come si può dire, una chat in comune, da cui lui poi uscì perché ebbe degli attriti con altri componenti di questo gruppo e dopo di che non ebbe più notizia. Ma qual è quell'interesse concreto che la porta a mettersi in contatto con Roberto Dinunzio e a mettere un like lì sotto? Questo è un soggetto particolare, sa? Faceva l'intermediario per conto di Vicio Gelli in questioni che noi riteniamo essere legati al terrorismo. Intermediario finanziario. Qual è l'interesse concreto che l'ha portato a fare? Nessun interesse concreto. È una coincidenza anche questa? No, non è una coincidenza, sono, come dire, dei meccanismi, dei social per cui se tu hai degli amici più stretti che fanno parte di un gruppo e c'è anche quest'altra persona non è che puoi indagare anche lì perché magari ti rilassi dopo tutta la vita che hai fatto e dici vabbè siamo sui social, rilassiamoci, ma se neanche lì si può rilassare è un inferno questa vita. Senta ma questo, al suo amico Dinunzio, prima di pubblicare la foto del padre, aveva parlato della storia del padre? No. Che si pubblica estemporaneamente la foto del padre? Ma sì, come tutti che lei va su Facebook. Ma è che ci hanno venato che la festa del papà. Se neanche su Facebook ci sono le foto dei padri, dei nonni, delle mamme, dei gizzi. No, le chiedeva qual era l'interesse concreto a avere il contatto con questa persona e l'interesse concreto a mettere questo like perché per noi è una persona particolare tutto qua. Guardi, non c'era veramente nessun interesse concreto, l'interesse era semplicemente quello di fare un atto di cortesia e di carineria a una persona che partecipava a una chat comune. Ecco, e lei come c'è finita in questa chat? Dove c'era Roberto Dinunzio, il figlio di Giorgio? Ecco, è questo. È questo. E ti spiega qual era l'interesse a entrare in contatto con questa persona? Perché uno può pensare che sia una casualità oppure che lei avesse un interesse a seguire le orme di quella persona. non c'era un interesse particolare, non poteva esserci perché per me era un emerito sconosciuto, era semplicemente un giornalista che pubblicava delle cose interessanti, dal giornalista delle notizie faceva valutazioni e chi mi ha invogliata non mi ricordo, c'è una mia amica attrice, c'era una psicologa, c'è un compagno del PD Emiliano, c'è, c'è, in questa chat c'erano Vabbè, io non ho altre domande per ora, se il collega ha una domanda, sì. Non era una chat tra me e lui, eh? Come? Non era una chat tra me e lui. Non si si, c'erano varie persone, però io volevo sapere il suo interesse, qual era? Il mio interesse era, il mio interesse era che c'erano all'interno di questa chat delle persone molto, molto carine, molto disponibili, che sono anche mia amica nella vita, come questa attrice, non Roberto Di Nizio, che non ho mai conosciuto personalmente. Senta, l'ultima domanda per ora, lei ha abitato nel appartamento di Via Gradoli 96, nel covo di Via Gradoli, perché poi quando intervenne la forza pubblica scoprò, scoprì delle cose incredibili lì. Per farvi capire, la signora se n'era già andata? Se n'era già andata, l'aveva ceduto a Moretti e Banzarani che facevano parte della direzione, c'erano gli organi esecutivi delle Brigate Rosse, dov'era questo appartamento, che piano era? Se lo ricorda? No, non me lo ricordo, era uno dei primi piani, non era in alto, il secondo e il terzo, non me lo ricordo. No, dopo tanti anni veramente non ricordo. Senta, questo appartamento aveva un amministratore? Sì, purtroppo sì. Ecco no, io non le voglio mettere il risultato, ma la sposta è in bocca, però lei al suo tempo ci fece il nome di questo… ci dica chi era questo qua, se si ricorda il nome, se no glielo ricordo io. Guardi, mi è ritornato in mente perché il nome era veramente particolare, molto particolare, mi è ritornato in mente tempo fa e poi vabbè sta su tutti i giornali adesso, per cui non è facile dimenticarlo Catracchia, ma il nome di battesimo non lo ricordo. Lei aveva avuto a che fare, perché ha detto purtroppo, ha avuto a che fare con questa persona? Purtroppo perché adesso sono qui, purtroppo perché comunque un amministratore è sempre comunque un problema per chi vive in un covo, perché è una persona che devi gestire, da cui ti devi fare notare il meno possibile, per cui lui si occupava se non mi ricordo male delle bollette che noi dovevamo pagare a lui e quindi il contatto era il più rapido possibile, cercando proprio di essere meno notati possibile. Questa era sempre la nostra politica di comportamento, il nostro modo di comportarci, perché era comunque una presenza scomoda che poteva notare delle cose strane, che poteva sempre essere comunque una persona che controllava quello che succedeva nell'appartamento, questo è il problema vero. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile, buongiorno signora Faranda, ripercorro alcune cose che ha già dichiarato facendo una serie di domande. Allora è interesse di questa difesa riprendere un punto in cui si era interrotta all'inizio della deposizione quando ha iniziato a spiegare alla Corte il progetto di attentato in piazza Giochi Delphi, ci ha già detto. Io invece le chiedo un dato legato proprio alla logistica della mattina del sequestro dell'onorevole Aldo Moro in Viafani, vorrei che spiegasse alla Corte sostanzialmente in quella azione lei che ruolo ha avuto nella fase preparatoria? Nella fase preparatoria, diciamo che noi avevamo appurato che il Presidente andava in piazza dei Giochi Delphi, saltato il progetto di piazza dei Giochi Delphi noi dovevamo individuare un altro luogo adatto lungo la strada che lui percorreva e quindi facemmo la strada ritroso, se lo vedevamo arrivare da Via della Camilluccia noi ci sistemavamo in Via della Camilluccia appena c'era un incrocio per capire da dove provenisse e così via via risalimmo tutto il suo percorso fino a Via Trionfale dove c'era la sua abitazione Via del Forte Trionfale non sono d'accordo, comunque dove c'era la sua abitazione e dopo aver accurato che quello era il percorso e aver verificato che lui lo faceva praticamente tutti i giorni, tutte le volte che usciva da casa a meno che non si recasse ad un'altra chiesa che era invece su Via Trionfale e allora cambiava completamente, però quello lì su Via Fani era il percorso più frequente praticamente era 9 volte su 10 almeno, riconsiderando tutto il percorso in direzione di Colonna si valutò che probabilmente l'unico posto in cui queste macchine potevano fermarsi era dove c'era lo stop di Via Fani. Quindi avete fatto questa valutazione strategica immaginando un percorso che anche quella mattina sarebbe stato fatto anche se non escludevate percorsi differenti in estrati. Ma c'era una probabilità su 10, sì, una cosa anzi forse anche di più di 10. Quindi valutammo che comunque andava bene, comunque provarci nel momento in cui non fosse passato si avrebbe aspettato qualche giorno perché ovviamente erano state forate le gomme al camioncino di Spiriti del Fioraio proprio per evitare che si trovasse sulle linee di tiro e non si poteva ripetere l'indomani, ovviamente. Ecco quindi il camioncino del Fioraio, Spiriticchio è anche un cognome che si ricorda diciamo un po' come cattacchio, sono nomi un po' particolari, Spiriticchio, avevate appurato che era sempre parcheggiato sulla destra prima dell'incrocio con Via Stresa, se ti ricordo bene. Sì. E chi forò le gomme? Due compagni di non ricordi di tanti di cui non c'è… Non voglio interrompere il collega, signora Faranda, io capivo, inizialmente ho capito, ho compreso le domande alla Procura Generale sulla contestualizzazione della testimonianza rispetto alla sua posizione, alla sua figura e quant'altro, però che noi ci dobbiamo… non credo che per quel poco che conosco di questa misteria, infatti però c'è una contestazione che mi fa di capire di favoreggiamento su uno specifico, il Fioraio, Spiriticchio e quant'altro mi pare che si voglia rifare un po' il processo… No, non è così collega e spiego perché giustamente lei non era alle scorse udienze, è alla scorsa udienza, esattamente dove c'era l'auto del Fioraio Spiriticchio forata nelle gomme da qualcuno, dico bene signora Faranda dell'organizzazione? Non c'è tanto di, credo, seghetti con qualcun altro, adesso non ricordo… Ecco, in sostanza al posto di quell'autoveicolo viene ubicata una mini modis di colore blee di proprietà della società Poggio alle Rose SRL che ha sede in piazza della Libertà 10 dove ha sede la Fidra e la SPA che è una società ufficialmente, abbiamo già documenti dei prodotti del SISD dell'epoca e ha sede l'immobiliare grado di SPA che fa capo al… è legata alla vicenda dell'imputato Catracchia in questo processo, quindi razio della domanda è capire. La sostituzione sostanzialmente, un attimo, del furgoncino del Fioraio in quel luogo dove avviene l'agguato alla scorta dell'onorevole Moro, la testa sta rispondendo, è avvenuto attraverso una valutazione preventiva di eliminazione di quel furgoncino, ma posto in quel furgoncino viene piazzata da qualcuno una mini modis blee di una società che ha sede legale nello studio palandri se l'hanno riferito dei testi la volta scorsa… Ma bene, mi scusi però… In questo contesto in cui credo che l'accusa privata e pubblica stanno cercando di risalire alla presenza di terze forze che in qualche modo connettono Brigate Rosse e terrorismo di altra natura, sia pure molto alla lontana la domanda ci può stare, però Avvocato limitiamoci a questo… Ma il senso era solo questo… No, io però vorrei chiarire una cosa, il problema non era il furgoncino, il problema era il fioraio e quindi sulla linea di tiro si poteva trovare il fioraio, cioè noi rischiavamo di uccidere una persona che non c'entrava nulla e volevamo ovviamente evitarlo. Sostituzione è un termine tendenzioso perché sembra che il camioncino fu sostituito da un'altra domanda… Diciamo esposizione per spiegare al suo difensore la razza di questa domanda, quindi quello che mi ha sentito dire rivolto ai colleghi non è qualcosa che verrò evidentemente a chiedere a lei. Ecco, a me interessava esattamente sapere se il gruppo brigatista che agisce in via Fani fa una valutazione sul togliere di mezzo quel furgoncino. Lei me l'ha detto anche spontaneamente, qualcuno di voi forò le gomme… Per evitare che ci fosse la persona, non il furgone. Al momento lo scopo non è rilevante, il problema è oggettivo che si fa in modo di eliminare il furgone. Non il furgone, di eliminare… di evitare la pretenza di una persona che era… Che stava sul furgone. E quindi poteva anche esserci qualcun altro che andava a acquistare i fiori in quel momento. Che stava sul furgone. Cioè era un elemento che… voglio dire, si tentava di proteggere le persone estranee. Questo è quello che hanno detto a lei. In realtà qualcuno, dicendo che bisognava proteggere il fiori, in realtà probabilmente voleva mettere un'altra macchina. Beh, questa è una valutazione… Una valutazione della parte civile, ovviamente. Lei non deve turbarsi di questa domanda. Ma non posso avvallare neanche ipotesi… Per me sono assolutamente lunari. Per voi era questo lo scopo. Per noi era questo. Per voi era questo. Evitare la persona, la presenza di persone che potessero essere… Quello che ha dichiarato mi è super chiaro. Non ho dubbi. L'ho compreso, il suo punto di vista sulla questione è chiarissimo. Le chiedo, all'interno del gruppo, diciamo, di fuoco che ha agito quella mattina, chi fece la valutazione sulla necessità di evitare il rischio per il fioraio di venire coinvolto? Tutta la direzione di colonna, nessuno in particolare. E lo chiedo, avevate già appurato che quel furgone del fioraio sostava normalmente lì in appostamenti, in attività preparatorie? Sostava lì? Certo. Noi avevamo appurato che c'era un bar chiuso perché se il bar fosse stato aperto non avremmo fatto l'azione lì. Sta alludendo al bar Olivetti. Esatto. Quindi quella era una situazione tranquilla perché non c'era nessuno che mandasse e venisse. L'unico elemento di… Di disturbo. Ma di disturbo nel senso appunto che poteva coinvolgere persone estrane, era un fioraio che si trovava proprio all'angolo dove potevano andare persone a acquistare i fiori, che comunque poteva essere, come dire, una neta per cui nel momento delle azioni si rischiava di sparare a gente che non c'entrava più. Ecco, questo l'avevate appurato? No, no, appurato. In attività preparatorie, in apportamenti, ecco, in quelle che erano, non so se si definivano inchieste d'organizzazione, io ho fatto il processo alle nuove DR per i fatti di Marco Biagis, così lo definivano, emulandoli, ecco. Si chiamavano inchieste. Inchiesta. Ecco, nell'attività d'inchiesta quindi emerge la questione del fioraio e la togliete di mezzo in queste cose, ipotizzavate che ci potesse essere qualcuno che si andava a parcheggiare al posto del furgoncino, come effettivamente poi è avvenuto. La macchina vuota non ci interessava, noi ci interessava che non ci fossero esseri umani, esattamente il motivo per cui è stata bloccata la strada in fondo ed è stata bloccata la strada all'ingresso, proprio perché non venissero coinvolte persone strane. Ecco, le chiedo un'altra cosa, lei per questa azione che tipo di attività ha fatto preventivamente ha, risulta dagli atti anche della Commissione Moro, acquistato dei… Ah, si, ho acquistato i freggi, se non mi sbaglio, dell'Alitalia. Si. Della? Della Alitalia, cioè di piloti di Alitalia, in un negozio vicino via nazionale. Quindi il progetto era quello di camuffare, sostitravvisare alcuni membri del gruppo di fuoco da piloti dell'Alitalia. Si, era venuta questa idea perché lì ce n'erano, c'erano hostess, sono zone in cui abitavano ed era, non poteva essere una divisa perché avrebbe dato nell'occhio, non potevano essere persone che lavoravano perché avrebbero dovuto lavorare, persone ferme ad un angolo con le borse fisse dopo un'ora di attesa, dopo dieci minuti, se si fosse dovuto ripetere l'azione avrebbero dato nell'occhio. Cos'è che non dava nell'occhio una professione qualsiasi che però giustificasse i borsoni? Ecco, dove si erano ubicati? Quindi steward o piloti dell'Alitalia. E ricorda dove nella prosta progettazione di quell'azione erano ubicati, dove dovevano essere collocati i suoi… Dalla parte del Barolivetti tutti quanti c'erano delle schiepi, delle cose, si poteva aspettare facendosi notare pochissimo. Ecco, le chiedo questo, nella progettazione dove doveva essere portato l'onorevole Moro nell'immediatezza… Siamo ancora in tema… Qua siamo forse troppo avanti… Sì, siamo nel tema, mi sto riferendo alla deposizione del test Giraudo, questo è il senso della domanda, quando il test Giraudo fa riferimento al dopo sequestro Moro, pagina 84 del verbale di dichiarazione… Chi è Giraudo? Prego. Chi è Giraudo? No, 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 Giraudo mi stavo rivolgendo… Ah, ok. Ecco, le chiedo, dove dovevate portare l'onorevole Moro immediatamente dopo l'attentato di Via Fani? Al luogo in cui sarebbe rimasto per tutta la durata del sequestro, che era via Montalcini, è stata fatta una tappa intermedia in… in una piazzetta lì vicino… vicino… Non può essere via Licinio Calvo? No, 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 assolutamente, via Licinio Calvo non era un posto possibile per… Madonna del Cenacolo, forse, piazza Madonna del Cenacolo che a quei tempi… perché uno deve ritornare sempre all'epoca, non può valutare le cose con gli occhi… No, ma ecco, noi non ce l'avamo… Di a quell'epoca non c'era nessuno lì in quella piazza, praticamente c'era una parte con un muro, un muraglione davanti, era una piazza con un muraglione semifircolare se non mi sbaglio, comunque c'era un muro molto alto, le macchine passava una ogni 20 minuti, era un luogo tranquillissimo dove si doveva trasbordare il Presidente Moro all'interno di un pulmino, adesso non mi ricordo perché io proprio non avendo partecipato ho solo la memoria della preparazione… Ecco, le macchine utilizzate per l'azione, quante erano signora Parande? Devo ricostruire quella che fermò le macchine, una, due quella di seghetti che la porta via, tre quella del blocco dietro… Tre quindi macchine… Forse tre… Ecco, queste macchine… Guardi, non me lo ricordo… No, no, glielo chiedo, secondo me lei quella mattina ci conferma non era in via Pagli… No, non era in via Pagli… Ecco, lei ha saputo dai membri del gruppo di fuoco dove le macchine coinvolte in quell'operazione furono lasciate? L'ha mai saputo? Io non ho saputo dettagliatamente, mi ricordo che quando veniva fuori, ogni volta che veniva fuori era stata ritrovata una macchina, tutti quanti dicevano ma sono ciechi, ma come non li hanno viste che sono sempre state lì? Questo è il commento ricorrente che io sentivo, tutto qua… Non sa se per caso qualcuna di questi commenti… Dopo aver fatto una cosa del genere, mi scusi… No, glielo chiedo signora, mi scusi… Se lo sa… Allora la domanda è se lo sa oggi, se l'ha mai saputo o può anche non averlo ovviamente mai saputo, quindi è una domanda aperta che le faccio come ex brigatista rossa che ha partecipato comunque al suo modo alla preparazione di un'azione, non ha fisicamente partecipato quel giorno a Via Fani e ha parlato però coi membri dell'organizzazione dopo l'attentato, quindi lei ha mai saputo se per caso una o più macchine usate per l'attentato è stata lasciata dagli altri componenti del comando in via Licinio Calvo nei pressi di via Massimi, questa è la domanda? Guardi, no, non è che nessuno mi ha detto dove sono state lasciate le macchine, lei si deve anche mettere nei panni di ragazzi che hanno fatto una cosa enorme, gigantesca, terribile… Mi permetta signora, possiamo definire… Dopo che sono state lasciate le macchine… Le parole hanno un senso, le parole lei lo sa, lei lo sa che le parole hanno un senso, le dispiace se invece di usare il termine ragazzi usiamo il termine terroristi… Terroristi, come vuole lei? Un gruppo di giovani terroristi fa un'azione enorme, terrificante, sta sotto shock, l'ultimo problema è il particolare di dove è stata lasciata una cosa o un'altra, siamo davanti a una cosa gigantesca che viene solo l'ansia a pensare che veramente si può gestire una cosa del genere, credo che veramente questi particolari fosse la cosa più insignificante, non l'ho saputo, io so che quando le ritrovavano piano piano si diceva che non le hanno viste prima, sono sempre state nello stesso posto perché nessuno dotato di buonsenso sarebbe ritornato in quel luogo per spostare una macchina rubata, usata per un'azione del genere, dovevamo essere veramente dei dementi, dementi lo siamo stati ma non fino a questo punto. Queste sono altre tante valutazioni che poi spetterà a noi, alla Corte e alle parti, a ogni parte del processuale fare. Veniamo a Via Massimi 91, ho capito bene che i vostri referenti per passare a Prospero Gallinari il contatto sono la Franco Pazzo e Franco Piperno, ho capito bene? Chiedo scusa Broggi e Andriani, grazie collega, sono Broggi e Andriani i vostri referenti? Erano coloro che avevano portato il gruppo di cui facevano parte questi due simpatizzanti. E avevano rapporti loro stessi con Franco Piperno oppure no? Ma questo non glielo so dire, non ne ho la minima idea. Lei non ha mai avuto contatti diretti con uno di questi due referenti che poi... la donna, credo di sì ma guardi il distanze di tanto tempo io non me lo ricordo più perché erano irregolari come altri, cioè io non lo consideravo così importante da dovere memorizzare. Mentre Morucci ha incontrato la figura maschile. Non ricordo più, non ricordo più, forse poi in un'occasione io l'ho incontrati entrambi, io non riesco più a ricordare. Allora io ho in mano il verbale, abbiamo un verbale dove un altro testo ci ha riferito che la Faranda si occupò di contattare... E' stato sentito in istruttore, è stato sentito in istruttore. Penso che si riferisse a verbali della signora. No, no, non ci sono verbali. Allora, non ci sono verbali della signora su tutti. La domanda si può fare come domanda sul... E' un dato conoscitoso, è emerso nel conto di direttore. Circostanze riferite, ovviamente non è tecnicamente una contestazione. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Utilizzando quindi questo dato conoscitivo già patrimonio della Corte, lei sa per caso che professione svolgevano queste due persone? L'ha mai saputo? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo perché... L'ha saputo anche a seguito delle audizioni nell'ultima commissione Moro? Ma può darsi, ma non l'ho neanche memorizzato perché sono cose così lontane che a me non riguardavano più perché io non vedevo l'ora di andarmene da quell'organizzazione, mi scusi. No, glielo dico perché milioni... Ero costetta comunque ad assolvere dei golpidi, però non è che era proprio come dire che fossi... In questo processo stiamo ipotizzando che la compartimentazione che al vostro interno voi seguivate sia stata utilizzata come presupposto da qualcun altro per gestire determinati fenomeni di terrorismo, tanto per essere chiari. Le chiedo quindi, milioni che è il nome, il cognome della figura maschile che porta in via Massi 91, era un capitano dell'aurematica militare con impiego in progetti speciali della Nato. Se le dico questo, lei cade dalle nuvole o ha qualche elemento di dubbio che nel tempo le può anche successivamente ai fatti? No, io capisco adesso, soprattutto adesso capisco benissimo come loro fossero spaventati. Fossero stati? Spaventati, che si siano tirati subito indietro. Chi? Dopo i due, la coppia che ospitava Prospero Gallinari, due pochissimo quest'ospitalità perché loro erano molto preoccupati e molto impauriti e immediatamente, io non so quanto tempo passò, ma veramente poco. Non risulta che sia stato proprio un passaggio repentino in questo cuovo. Passò pochissimo tempo e loro ci dissero no, scusate, è troppo pesante, non ce la sentiamo. Ecco, lei all'interno di questo cuovo quanto tempo è rimasta? Io? Lei è transitata mai in questo cuovo? No, stiamo parlando di via Massi 91. Mai! Sì sì, io chiedo se lei è mai transitata in questo cuovo. Mai, anche perché era una zona in cui potevano conoscermi delle persone perché io abitavo con mia madre dai 13 anni fino alla mia abitanza abitavo in via Tito Livio che sta di fronte. Avevo degli amici in quella zona, vecchi compagni che potevano riconoscermi. Quindi il cuovo è stato frequentato da Prospero Gallinari quindi il cuovo. Ma ritengo proprio di sì. Sì, perfetto. È fatta. Ecco, facciamo un passo indietro, andiamo al cuovo precedente, andiamo al cuovo di Viale Giulio Cesare. Rispetto a questo episodio lei ha mai avuto contatti con un'autorimessa, un carrozziere di nome Bozzetti che stava nei pressi di Viale Giulio Cesare? Un'autorimessa che stava nei pressi di Viale Giulio Cesare? Sì, ha mai acquistato autoveicoli presso Auto CIE? Ah, sì, sì, ma non era vicino a Viale Giulio Cesare. Ecco, ci racconti un po' di questo luogo, è un tema di percezione dei testi ammessi nella nostra lista su questo dato. Avevo acquistato un Ameari e un A112 in tempi immemorabili, è proprio antichissimi, sapevo che un mi pare che si chiamasse Olindo, era un vecchissimo amico di Valerio Morucci perché abitavano non nello stesso palazzo addirittura oppure comunque si conoscevano quando erano proprio adolescenti o se non bambini addirittura e quindi pensavamo che ci avrebbe consigliato bene, fatto dei prezzi buoni, in un anno quando compra una macchina va così. Ecco, avevano consapevolezza questa persona e chi lavorava all'interno di questa auto-officina, aveva coscienza di chi eravate voi diciamo nella vostra veste clandestina? Ma la vostra veste clandestina non credo proprio! Sono acquisti precedenti questi… Sì! Sì, però per un attimo siamo nel 1978-1979, quindi siamo nel… L'acquisto nel 1978 è un'altra cosa… Ma io l'ho acquistata… Sì no, gli acquisti delle auto sono precedenti, però… Durante il sequestro muro io non è che andavo in giro per auto rimesse, non li vedevo questi due… L'acquisto di questa auto-officina risulta essere… No! Io lo chiedo, diciamo in epoca successiva a questi acquisti avete continuato a mantenere contatti con il personale di questa auto-officina, avete avuto occasioni per riparazioni… A volte ci abbiamo avuto occasione di ritornarci, ma comunque non sotto il sequestro muro… In epoca successiva… In epoca successiva? Cioè quando vi trasferite… Può darsi in epoca successiva perché sì dopo che eravamo usciti… dopo la nostra fuoriuscita è possibile che sono stati ripresi dei contatti, perché comunque noi… non ricordo esattamente per quale motivo… però siccome eravamo alla ricerca comunque di appoggi, di situazioni di sostegno… Non esclude quindi di essere andata per anche delle riparazioni comunque in questo luogo… No, no, non lo escludo… riparazioni mi sembra difficile perché erano anni ormai che andavamo a gire in autobus e che non possedevamo auto… Quindi avevate se non delle riparazioni dei contatti con queste persone per qualche motivo… Valerio Morucci magari non lei… Sì sì sicuramente ma appunto per amistizia per chiedere se… Se le faccio un po' di nomi… Dario Pozzetti… Sì mi pare che fosse uno dei proprietari… Lei l'ha conosciuto questo Dario Pozzetti… Certo andando lì a acquistare la macchina c'era anche lui… Salvatore Pomes le dice qualcosa? No… Non lo ricordo… Lei ha mai saputo se in quel luogo… Gli lo chiedo… Ha mai saputo se in quel luogo oltre ad attività diciamo di aggiustamento macchine si facesse anche attività di falsificazione documenti per altri gruppi criminali romani… No… Non mi pare… Non l'ha mai saputo… Non l'ha mai saputo… Sì… Andiamo a Monte… Lei si ha detto che è entrata nell'organizzazione se non ricordo male nel 76… Alla fine nel 76… In epoca precedente militava in altri gruppi credo autonomia operaia forse… No… Non era autonomia operaia… Era… Dunque… Io venivo da poter operaio… Dopo la scissione… Il convegno di Rosolina a mare in Veneto… Si spaccò in diversi tronconi… C'era… Diciamo che già… Lì ci fu un gran macello per cui ci furono diversi gruppi che si formarono… Che avevano… Erano già armati e che iniziavano su questo terreno… E furono i… Io partecipai a… Sondai e partecipai a due di questi gruppi che erano… Di cui non ricordo più le sigle esattamente… LAP e FAC… Una cosa del genere… Io non ricordo più esattamente le sigle… Si ha parlato del fronte logistico prima… Di cui faceva parte Morucci del fronte della contro rivoluzione… E ha parlato della direzione di Bologna… Di Colonna… Ah di… Colonna… Ah, perdon, perdon… Allora… La Colonna di Roma… La Colonna di Roma… La Colonna… Non proprio non… Ecco… Dovete scegliere comunque dei covi sicuri… Ecco… Quali sono i criteri che la vostra organizzazione terroristica presceglieva per individuare dei canoni di sicurezza utili all'organizzazione? Come dicevo prima non potendo disporre di un'anagrafe del quartiere dovevamo affidarci semplicemente a quello che più o meno si capiva o si intuiva… Sono le zone abbastanza tranquille, residenziali o comunque come posso dire abitate da persone normali che… con cui si si poteva mimetizzare… Quindi il criterio era quello della Mimesis… Sì… Diciamo… Il principale era questo… Ecco… Quando lei acquista un appartamento per conto dell'organizzazione… Via Albornoz… Sì… Ecco… La scelta dell'appartamento di Via Albornoz segue i criteri che ci ha… Segue più o meno questi criteri però appunto c'è un imprevisto… Quando io do la catarra il… Non mi ricordo se il vecchio padrone di casa mi dice… E comunque lì sarà tranquillissima perché di fronte c'è un… Non mi ricordo se mi ha detto un poliziotto… Sì… Sì… Si immagini che una sera mancava la luce sul ballatoio… Quello che abitava dove lei andrà ad acquistare… Faticava a trovare la serratura… Questo ha sentito rovistare e si è trovato all'improvviso preso alla guada con la pistola puntata… Perché si era insospettito il dirimpettario… A quel punto io riferisco in direzione di Colonna che c'era questa situazione in quell'appartamento… E si valuta che è una situazione che resta allarme… E quindi si perde la catarra e non si chiude più il contratto d'acquisto… Ecco quindi non l'ha acquistato alla fine… L'appartamento… No… Soltanto… Non mi ricordo se era già l'acquisto o solo la catarra… Non riesco più a ricordarmelo… In che anno l'avrebbe acquistato? Credo che fosse anche qualcosa di più della catarra… Non può essere l'anno 74 quello dell'acquisto di iato… No… Assolutamente… Era… Dopo il sequestro costa… Perché dopo il sequestro costa c'è stato… C'era la disponibilità di avere dei soldi e si decise anche di… Prendere delle… Di investire… Di investire… Di investire anche in delle situazioni più stabili… Che non soggette agli umori dei prestanome… Ecco… Il notaio rogante in questo caso… Lo avete scelto con che criteri? Ecco… Io credo che è tutto interessante… E' il notaio fenoltea che ha firmato gli atti anche su… Gesù mio… Lo valuteremo bene… Il notaio credo che l'abbia portato all'altra parte… Cioè non l'ho scelto certo io… Cioè un clandestino delle BR non è che va in giro per il notaio… Certo… E con lei aveva disponibilità personalmente economiche… Per acquistare appartamenti o no? No… Io le avevo avute dopo la morte di mio padre… Ma era una casa che era stata acquistata… In che anno siamo? Quella… L'anno in cui siamo eh… 71… 72… Non ricordo… Ecco… Acquistò quindi un altro immobile a Roma all'epoca? Si ma non facevo parte di nessuna organizzazione in quei tempi… Cioè… Avevo la bambina piccola e papà era morto… C'era questa possibilità di… Ecco… Torno un attimo signora… Faranno in via Gradoli… Oltre al civico 96… Dove avevate appunto questo covo… Ricorda anche un box dove veniva posto un autoveicolo al civico 75… No… Non ho capito… Cioè la locazione diciamo del 96… Aveva come collegamento anche un box auto al civico 77… Ne ha ricordo di questo? No… Non ricordo assolutamente… Mi dispiace… Se prima… Potevo ricordare qualcosa… Al civico 77 chiedo scusa… Morucci aveva cognizione diciamo della locazione degli immobili da parte dell'ingegner Borghi alias di Mario Moretti in via Gradoli… Morucci era informato del… Diciamo prima di entrare in questo covo dell'esistenza del covo di via Gradoli 96… Questo non lo so… Lei ha saputo in epoca successiva nel 1979 che alcuni di questi luoghi… Cioè questi appartamenti erano entrati nella disponibilità del Vincenzo Parisi poi vice direttore del SISD… No… E capo della polizia… Assolutamente no… L'ha saputo in epoca anche successiva… No… L'ho saputo adesso guardando… Guardando… Guardando internet… Non… Non potevo assolutamente saperlo anche perché… Da quello che ho letto usava dei prestanome… Per cui… Come facevo a sapere che quell'appartamento intestato da Annalisa Pirintelli era parente… Parisi… I criteri di sicurezza riguardavano… Ce l'ha detto con l'episodio appunto di prima di Via Albornoz… Anche il vicinato… Quindi facevate inchiesta anche… No… Su chi erano i vostri vicini… Era a naso… Il mio naso in quel caso sbagliò pesantemente perché… Però era un po' intuito… Un po' perché… Si guardava la gente che andava in giro… Ma non si poteva fare un'inchiesta sui vicini di casa… Lei ricorda nel periodo in cui ha occupato… L'appartamento dell'interno 11 di Via Gradoli 96… Dei vicini di nome Lucia e Gianni… Sto alludendo a Lucia Mocuvel e a Gianni Diana… Che erano proprio di rimpetai nel vostro pianerottolo… Ma noi cercavamo di evitare tutti i vicini… Per cui non li andavamo a cercare… All'interno di quell'appartamento di Via Gradoli 96… Può riferire se avevate macchine da scrivere… Ma macchine da scrivere non ricordo… O strumenti idonei a creare un ticchettio… Diciamo che potrebbe essere una macchina da scrivere… Qualche altro strumento per fare comunicazioni… All'epre… Una macchina da scrivere… Non ricordo… È possibile che ci fosse una macchina da scrivere… Sicuramente non c'era… Nessuna apparecchiatura di alfabeto Morse… Ecco perché dice… Io non ho parlato di apparecchiatura di alfabeto Morse… Perché sta su tutti i giornali… Ecco ci spieghi un po' perché ci dice questo… Perché l'ho letto in tutti i giornali… Sono anni che si favoleggia di queste trasmissioni… Non si favoleggia… Ci sono dei verbali di dichiarazione della signora Morse… Perché è il test di questo processo e che verrà… È possibile che abbia favoreggiatto lei… Che dicono che si ascoltavano dei segnali che potevano essere o di una macchina da scrivere… O di un alfabeto Morse… Come ha detto lei… E ci ha detto che ha avvertito la questura di Roma… È un personaggio che si chiama Elio Cioppa… Che è il risultato poi iscrittore a P2… E che manda una squadra… Qual è la domanda Presidente? Perquisiscono tutti gli appartamenti… Perquisiscono tutti gli appartamenti… Perquisiscono tutti gli appartamenti tranne uno… Quello dove sono le Brigate Rosse… Allora questo non deve chiederlo a lei… Il senso della domanda è… Non esclude ci fossero macchine da scrivere… Esclude invece ci fossero strumentazioni per comunicazioni con l'alfabeto Morse… Ma penso proprio di sì… Cioè non ho mai sentito parlare… Non ne avevamo bisogno… Non sapevamo… Con chi dovevamo comunicarlo… Ecco ma nei 55 giorni del sequestro Moro… Lei ha abitato in quel appartamento… No… E quindi come fa a escludere che non ci fosse uno strumento per comunicare con l'alfabeto Morse… Allora… Forse non lo sa… E' più corretto che non lo sa… Allora… La domanda invece è limitata… Se non c'erano… Certo… Quindi non esclude ci fossero macchine da scrivere… In che ci sono… No… Certo che non posso escluderlo che ci fosse una macchina da scrivere… Ecco… All'interno di quell'appartamento detenevate nel periodo quantomeno in cui l'ha occupato lei… Armamenti… E che tipo di armamenti? Sì ma non ho memoria di quali armamenti… Pistole in dotazione e altre armi di cui sinceramente non ricordo assolutamente né l'entità né… Documentazione come in dati lo scritti o documentazione ideologica dell'organizzazione… Ma sì… Certo… Era ovvio… Altrimenti non sarebbe stata una base dell'organizzazione… Un altro appartamento qualsiasi… Ecco… Rispetto al luogo di detenzione dell'Onorevole Moro che lei ci dice essere in via Montalcini… Sì… E il luogo di via Grado di 96 durante i primi 30 giorni del sequestro Moro… Era un luogo da cui si faceva spola che lei sa… Lei è stata la postina se ricordo bene… Sì… Quindi i contatti fra i vari brigatisti… Però mi fa capire che nel 78 sequestro Moro loro non ci stessero più… No… No… Non eravamo… Non in via Grado… Non in via Grado… Non in via Grado… Non in via Grado… Non eravamo in via Grado… Sì… Nei primi 30 giorni… No… No… Non lei… Altri brigatisti… Sì… Era abitata quella… Sono in via Grado… Ecco… Faranda in quel periodo dov'era? Via Chiabrera se non mi sbaglio… Era una casa affittata… Un'appartamentina affittata… Un suo ufficio… Quindi lo chiamavamo l'ufficio… Dove eravamo stati costretti ad andare perché… Anche se non era contemplato come residenza normale per dormire… Non avevamo nessun altro posto in quel momento io e Morucci… Quindi abitavamo in ufficio… Ecco… Il coordinatore… Il capo delle Brigate Rosse… In quel periodo del sequestro Moro… Chi era il referente numero uno… Diciamo… Con cui… Mario Moretti… Mario Moretti… Sì… Dove rimaneva… Dove viveva Mario Moretti… Dove viveva… Quando non era fuori… No… Durante i giorni del sequestro Moro… Nel sequestro Moro… Mi scusi… Un componente dell'esecutivo… Ed è anche gli altri componenti dell'esecutivo… Esatto… Quindi quando non era fuori Roma per incontrare gli altri componenti dell'esecutivo… Faceva capo a Via Gradoli insieme alla Balzarani… Quindi nei primi 30 giorni Moretti e la Balzarani sono in Via Gradoli 96… Fino alla caduta… Del covo… Del covo… Con la nota perdita d'acqua… Ecco… Da quel momento… Diciamo… Da quel momento in poi c'è un trasferimento… Mi interessano i primi 30 giorni… I contatti con Mario Moretti quando non era a Firenze o nel nord Italia… Come li tenevate? Cioè… Per informare sull'andamento delle dichiarazioni di Moro… Gli incontri avvenivano… Diciamo… L'elemento direttivo del sequestro dove era ubicato in Via Gradoli 96 dove c'era Mario Moretti… Ma noi non ci incontravamo mai dentro le basi… Certo… Tranne che in ufficio… Sarebbe stata un'imprudenza… Esattamente dove abitavamo in quel momento io e Morucci quello era stato dedicato prima del fatto che noi fossimo costretti ad abitarlo come luogo anche di riunioni… Certo… Gli incontri invece con Moretti avvenivano in genere fuori… In luogo dentro che poteva essere un bar… Un parco… I soliti luoghi dove noi ci incontravamo normalmente… Solo eccezionalmente… Per esempio la sera prima dell'uccisione di Moro ci siamo visti all'interno di Via Chiabbrera… Ma mai a Via Gradoli… Sì sì no… Questo lo so… Ecco… Le chiedevo appunto dove era Mario Moretti in quel periodo… Le basse aveva Via Gradoli… Ecco… Poi lei prima rispondendo alla Procura Generale ha affermato di non aver mai avuto diciamo informazioni o di non aver mai saputo episodi di infiltrazione da parte di organismi strani all'interno del gruppo Brigate Rosse… Lei è entrata nel 1976 ma faceva attività politica anche nel biennio precedente… Dell'arresto di Curcio e Franceschini e di come è avvenuto attraverso un procedimento di infiltrazione… Come dire… Che già all'epoca è emerso… È un dato storico che lei conosceva all'epoca immagino… Silvano Piroppo… Sì ma io parlo dell'epoca della mia militanza… Non di altri periodi… Sì no ma ecco… Riavolgiamo il nastro di due anni precedenti… Cioè un episodio dove due capi brigatisti precedenti alla sua militanza… Sì erano stati arrestati attraverso l'infiltrazione di Silvano Girotto alias Frate Mitra… Sì… Che aveva tutt'altra storia ma che viene infiltrato… Sì… Riavolgiamo la domanda… In sostanza si ha saputo di episodi anche in epoca precedente in cui si erano manifestate infiltrazioni all'interno delle Brigate Rosse… Allora questo lo diamo per scontato perché è storico… Se lo sapeva al tempo… Se lo sapeva al tempo… Se lo sapeva al tempo certo… Beh al tempo sì… Era già venuto fuori… Era già chiaro che c'era stato un… Un tramollo… C'era stato un episodio di infiltrazione… Sì… Infiltrazione poi non è una parola… Cioè c'erano degli appuntamenti, dei contatti con questa persona… Ma non è che... S'era stato infiltrato… Prate Mitra… Che era stato infiltrato… Prate Mitra… Era all'interno di tutte le strutture organizzative del BR dell'epoca… Infatti furono arrestati soltanto… Quelli che si rec jeito… l'ha usato come esca da qualcuno per arrestare Curcio e Franceschini a Pinerolo. Sì, sì. Ecco, a fronte di questo dato la domanda successiva è, dal punto di vista della sicurezza, quindi il timore di possibili situazioni come quelle patite da Curcio e Franceschini durante la sua militanza nell'organizzazione, c'erano state, ci sarà stato un dibattito su quello strano arresto? Ma il dibattito l'hanno fatto i militanti delle BR all'epoca, non si considera, continuava a fare sempre lo stesso dibattito tutti gli anni come succede invece adesso per altre cose. Certo ci si poneva il problema, ci si poneva sempre il problema di una possibile infiltrazione per questo che venivano rispettati molto seriamente i criteri di compartimentazione, per questo non si analizzava comunque chi entrava dal punto di vista politico, c'era chi garantiva per lui e dopo di che si andava sulla fiducia, non si poteva reggere un'organizzazione politico-militare con il sospetto continuo. C'erano delle precauzioni se si incontrava qualcuno ancora non appartenente alle BR, c'erano dei percorsi particolari, degli altri militanti che controllavano che questa persona fosse pulita, non fosse pedinata, c'erano dei accorgimenti, molti accorgimenti, però soprattutto per chi era ancora fuori dall'organizzazione che poteva essere per esempio usato come esca, chi era stato già ammesso, veniva lasciato vivere. Ecco, le chiedo un'ultima cosa che è emersa in una scorsa udienza, le risulta per quanto di sua conoscenza dell'epoca naturalmente che Prospero Gallinari avesse avuto rapporti con qualche membro di Ordine Nuovo, del gruppo Ordine Nuovo, a riferire che nell'ambito dell'ultima indagine sul caso Moro, questo dato sarebbe messo. Non dobbiamo informare il testimone di quello. No, 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 sono assolutamente a conoscenza. Chiarimento su un argomento che ha citato prima e poi l'ha recitato ancora, però non è chiara la cronologia. Voi vi siete staccati dalle Brigate Rosse e poi c'è stato un processo di pentimento, voi avete riterito in merito al memoriale. Quando è stato fatto questo memoriale? Perché volevamo collocarlo cronologicamente. Dunque, noi prima abbiamo comunque promosso e partecipato al movimento di dissociazione della lotta rimasta. Poi cominciamo un processo di riconciliazione. Se lo può collocare cronologicamente? Eh, dunque. Siamo ancora alla fine degli anni 70 o dopo? No, siamo già in inizio degli anni 80 quando poi ci sono i processi, il processo Moro. All'inizio degli anni 80? Il secondo, l'appello dove si è esplicito, noi facciamo la ricostruzione. Avevamo iniziato prima con il magistrato Ferdinando Imposimato a fare delle prime deposizioni con il ricostruendo. Avevamo come referente una suora? No, quando noi facemmo la ricostruzione con Imposimato, su Orteresilla non c'entrava nulla. Sor Teresilla Barillà è un nome che lei ha fatto che oggi non ha risposto. Sì, Sor Teresilla Barillà la conoscevo, la conobbiare Bibbia perché lei comunque frequentava i carceri. Lei ha parlato anche del referente politico. Possummo la nostra militanza politica con il magistrato Imposimato in epoca precedente alla mia conoscenza di Sor Teresilla. Quando andammo al processo non mi pare che Teresilla... Lei ha fatto un discorso su questo punto facendo il nome di un referente politico, più di uno ma uno in particolare. Cioè? Disse che la suora parlò specificamente dell'onorevole Piccoli a lei. Ah, beh, ma questi in epoca successiva hanno già ormai i processi amofimiti... Ecco, vorrei che la collocasse cronologicamente questa cosa. Come? Vorrei che la collocasse cronologicamente. Cronologicamente era posteriore alla fine del processo d'appello di Moro, quando noi venimmo trasferiti a Paliano. Quindi? Che anni? E quindi non lo so, sta scritto facilmente, non lo so, non ricordo santamente quando fu l'83 mi pare che ci fu il processo Moro, 80... Vabbè, mi permetto di insistere su quello che ha già introdotto il collega perché nell'interrogatorio che ha reso a noi signora il 18 novembre 2019 su questo specifico punto, lei lega la presenza di Suor Teresilla che era ovviamente una persona che era stata mandata alla stesura del memoriale con queste dichiarazioni. Suor Teresilla disse a me e a Morucci che sarebbe stata importante per noi, o meglio alla causa della dissociazione, fare capire ai politici e in particolare alla DC, la Suora parlò specificamente dell'onevoli piccoli, le ragioni della dissociazione e comunque la storia del nostro percorso politico attraverso la redazione di uno scritto che poi... Sì. Quindi pare che l'idea del memoriale venga introdotta proprio tramite questa presenza ecclesiale. Non era stata un'idea, non era un'idea nostra, non avevamo nessun interesse a interloquire con i politici attraverso uno scritto che ricostruisse la nostra storia. Che però poi di fatto viene elaborato. Poi di fatto viene... che residera come la goccia sulla pietra, viene comunque presa in considerazione questa ipotesi, poi viene accettata perché comunque c'era sempre questa idea che anche i familiari avessero diritto a tutta la verità, che i politici dovessero sapere, che la bc, che tutti quanti... c'era questo discorso comunque per cui bisognava che noi riuscissimo veramente a riempire tutte anche le lacune per cui poi Valerio vabbè insomma si decise di... visto che doveva rimanere comunque una cosa... una cosa riservata per cui io non ero così d'accordo... comunque si decise di mettere anche i nomi delle persone che già erano state condannate, che non erano state fatte in aula... insomma... si indicarono altri responsabili... una decisione comunque pesante anche quella... Si no immagino... mi interessava che lei dicesse alla Corte questa cosa... lei ha detto doveva rimanere riservata... riservata a chi? No riservata nell'ambito dei politici... non immediatamente... come dire... tradotta in procedimento giudiziario ecco... addirittura... quindi questa era la prospettazione che Suor Teresilla... No... che era una cosa... Cioè che l'indicatore di nomi di responsabili di un fatto come lei ha detto prima atroce... rimanesse nella disponibile conoscenza solo di alcuni... Non solo... di alcuni... comunque io non ho... cioè... sì prevalentemente sì... prevalentemente... altrimenti avremmo fatto una deposizione alla Magistratura... Ma ho capito... ma si rende conto di che proposta... cioè... della indecenza chiedo scusa... della proposta... perché dice dimmi nomi... lo sanno i politici... ma la Magistratura non ne verrà mai a sapere nulla... cioè... con quale assicurazione... E questo rispettava ai politici quella decisione... Va bene... Per passarlo alla Magistratura no... Noi una volta... che l'avevamo comunque fatto vedere... ai politici... di riferimento... Va bene... Eh... da... di Teresilla... Grazie signor... Grazie signor... Scusi... avrei... Con prego... Perché se... la domanda è fidale... Eh... c'è anche... L'Avvocato Speranzonico... Prego... Signor Faranda buongiorno... Sono il Dottor Candi... Eh... Senta... Signor Faranda... Lei prima... eh... parlando... eh... se non sbaglio... del ritrovamento delle... delle... delle macchine... in certe vie... e dicendo che insomma... lei aveva un po' perso... se non ho capito male... l'interesse... a sapere esattamente com'era finita... dove erano finite... eh... ha parlato di... ragazzi... scioccati... eh... perché avevano appena eseguito... il... il sequestro Moro... Allora... eh... io... le... ehm... e poi ha detto che... nella preparazione... a quale lei aveva partecipato... eh... vi eravate preoccupate... di quel fioraio... eh... e... da questo il senso... però... eh... le dispiace riferire alla Corte... quanti erano gli uomini della scorta dell'onorevole Moro? Erano cinque... e che fine fecero? Presidente mi scusi però queste sono domande che obiettivamente risultano da sentenze passate in giudicato e che tendono non a indagare sui temi di prova di questo... di questa vicenda... Credo che la paranda abbia negli anni dimostrato già ampiamente una presta di distanza... Sì signore... mettono in luce degli aspetti della testimonianza... Appunto... appunto perché lei ha difesa... appunto perché lei ha difesa... appunto perché lei ha difesa la vittima... Allora... voglio dire che gli aspetti... eh... del carattere di un testimone credo che abbiano... eh... il diritto di essere messo in luce... e questi sono i... il... ed è il tenore della mia domanda... Comunque... avvocato generale... è chiaro che ci stiamo occupando di un altro delitto... E gli aspetti... mi scusi... Capisco il senso della domanda... però noi non dobbiamo giudicare il testimone... dobbiamo giudicare... No... comunque... Allora... allora faccio un'altra domanda... eh... in mezzo a queste cinque persone che vennero eh... ammassate... eh... lei sa se il presidente Moro fu scalfito da una singola pallottola? No... non mi risulta... come... non... non mi risulta... Presidente... non è risulta cosa... Come? Non è risulta cosa... Che fu ferito scalfito da una... Quindi... risultava assolutamente illeso... Sì... Bene... Questi sono temi... ampiamente... infattuti... in altre serze... Sì... Presidente... ho capito... eh... La testimone si è espresso in quei modi lì... e capisco qual è la tua... La... la testimone ha detto che avevano eh... liberato... la strada da un furgone perché gli interessava... No... ho capito... Beh... Grazie... Allora... Faccio un'altra... Facciamo... non diamo la protezione morale del testimone... No... no no no... Si... Non... no... Parlo solo di attendibilità e di... e di... e di comprensione delle risposte... del test... Guai a me da dei judici morali in questa sede... Vi chiedo un'altra cosa... Lei ha conosciuto un brigatista che si chiamava Casimirri? Si. Può dire chi era? Era un militante che faceva parte all'inizio della brigata Prima Valle e poi fece parte della brigata di fronte della Ponte. E poi fece parte di coloro che sequestrarono Moro. Fece? Cioè prese parte del sequestro Moro. Si ma questo è stato poi voglio dire noi non è rimasto nella camera nascosta poi noi abbiamo fatto delle posizioni alla magistratura, abbiamo fatto delle deposizione alla magistratura davanti ad altri corti in sedi di altri processi dove abbiamo colmato queste ragione. Guardi era lungi da me, era solo una richiesta che io le facevo perché non avendo io preso parte a quel processo ho dei gap per cui chiedevo a lei una conferma. Allora le chiedo questo, lei sa che fine abbia fatto Casimirri? So dai giornali che è in Nicaragua. Ma è in Nicaragua comunque all'estero quindi non è finito dentro? No. Bene. Allora un'ultima cosa le voglio chiedere visto che lei ha partecipato all'organizzazione del sequestro ma siccome risulta che furono esposi molti colpi di armi da fuoco nel corso del sequestro moro furono uccisi tutti gli uomini della scorta. La domanda è questa. Avevamo messo in conto che potesse morire l'onorevole Moro? Avevamo messo in conto che ci potesse essere sì un errore, potesse essere colpito così come avevamo messo in conto che la scorta, gli uomini della scorta avrebbero potuto rispondere al fuoco e uccidere qualcuno di noi. Certo era stato messo in conto tutto. Bene grazie. Un'altra domanda Presidente. Grazie. Tre domande nate sulla base delle domande fatte dagli Avvocati della Difesa. Allora chiedo questo. Lei, andiamo in viale Giulio Sella un momento, ha conosciuto la Giuliana Conforto? Sì. Ecco, sapeva che mestiere Conforto? Giuliana era una ricercatrice di fisica all'università. Ecco, il collega mi dice che lavorava all'università. A livello internazionale, ecco, le risulta lavorasse alla Casaccia, località Casaccia, all'Enea? Mi pare di sì, ma non sono sicura al 100%, sapevo che lavorava come fisica e che era una ricercatrice apprezzata. Esatto. Ecco, all'epoca lei ha saputo se la Giuliana Conforto fosse anche amica di Luciana Bozzi che era la comproprietaria dell'immobile di Via Gradoli 96. Non avevo motivo di avere questa informazione, non... Ha mai conosciuto Luciana Bozzi all'epoca? No. No. Non sapevo nemmeno il nome della patrona di Casaccia di Via Gradoli. Sì, sì, no, perché c'è questa amicizia tra la Conforto, Didier e Roma. È una ricerca grande ma tanto piccola. Questo dato però è un dato... Sì, sì, no. Adesso sentiremo dei testi, chiedevo se conosceva Luciana Bozzi all'epoca. Quindi una domanda... Ecco, chiedo questo. Lei ha parlato prima, forse su domanda della difesa Bellini mi pare di ricordare, dell'ipotizzato progetto di colpire Andreotti o Fanfani, ha fatto i nomi. Sì, si ricorda. Ecco, poi la scelta cade sull'onorevole Aldo Moro. Le chiedo all'epoca se l'attualità del progetto di compromesso storico fra Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano fosse nelle vostre discussioni interne del gruppo brigatista un tema che fu alla base della scelta strategica alla fine di colpire Moro. No, non fu un elemento, un elemento ovviamente considerato, ma non fu considerato, evidentemente era un elemento considerato e analizzato, che aveva il suo peso, ma non il peso determinante, non fu un'azione finalizzata a bloccare il compromesso storico. Ecco, questa fu una ricostruzione a posteriori, un'interpretazione a posteriori… Come valutate il compromesso storico, voi delle prime risposte? Ma noi… Presidente, si tiene una votazione storico-politica… Alla testimone, come valutate il compromesso storico? Come un trappolo a testa… L'opinione della testa in mese è relativamente importante, è un tema che viene dibattuto in centinaia di scritti di pubblicazione, si sa che c'è una certa ipotesi storica… Per la testa ne sia conoscenza o per la testa ci può parlare oggi, informazioni nuove, sembra improvvata. Ecco, un'altra cosa che è stata introdotta dalla difesa Bellini, ecco il villino di Velletri, da chi vi fu fornito il villino di Velletri? L'ho chittato e non ricordo da chi, forse da Seghetti ma non sono sicura, forse non sono sicura al 100%, non ricordo esattamente. Va bene ho finito. Non lo ricordo, però quando io dico comunque non lo ricordo vi prego di non prendere per oro colato quello che posso dire perché veramente ormai dopo tanti anni la memoria si indebolisce, è costretta a selezionare i ricordi. Bene, può andare grazie, abbiamo concluso, buona giornata. Grazie Presidente. Buon lavoro a voi. Grazie 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 a tutti.